Buongiorno, ciao, oggi siamo 12 gennaio 2013, guardate che bellezza, guarda amore che bellezza, questa è la nostra villetta, la neve, guarda c'è a due metri, quasi, poi guarda le villette qua, questo è il cortile nostro, sono caduta, vedi che montagne alte, mannaggia, l'ho fatto a mano, qua devi stare attento se non cazzi, hai capito, hai visto che roba amore, da nonna, 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 guarda mio nipote mi sta chiamando, dove sei nonna, 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 dove sei nonna, hai visto mi chiama nonna, siamo tutti mamma mia, dai a dopo ciao, bevo caffè ciao